amici del diario del web oggi è una data importante 16 febbraio nel 1979 cioè 37 anni fa nasceva a urbino valentino rossi quindi tanti auguri al nostro super campione nove volte mondiale 112 gran premi conquistati una leggenda quella personalità lì questi ventunesimo a stagione in moto la prima vittoria ricordiamolo nel 96 l'8 agosto a bernod insomma è una carriera lunghissima che la settimana scorsa valentino stesso ha detto che è indeciso se prolungare per altre due stagioni oppure interrompere la fine di questa deciderà dopo le prime 5-6 gare probabilmente valuterà il suo livello di competitività quindi gli auguriamo di riuscire a raggiungere la decima come ha fatto carlo ancelotti con real madrid e lui il decimo mondiale così continuerà forse addirittura per più di due anni noi continueremo a divertirsi con le bagarre con marquez con lorenzo e poi magari speriamo con dovizioso con magari l'anno prossimo uno stoner che torna con iannone insomma è divertente allora noi diciamo che lui ha i numeri quasi tutti dalla sua parte nel senso che 37 3 più 7 fa 10 46 4 più 6 fa 10 2016 fa 2 più 0 2 più 1 3 più 6 fa 9 noi però allora siccome il suo compleanno gli regaliamo un 1 e via facciamo 10 anche qua auguri vale e poi ricordatevi da domani fino al 19 in pista a philippe island condizioni di asfalto e di circuito completamente diverse da seppang vediamo se anche lì la onda sarà in difficoltà se anche lì lorenzo le suonerà a tutti se anche lì le ducati 2015 saranno più pronte di quelle ufficiali ad affrontare le michelin e tutti loro e la nuova elettronica insomma ci saranno ancora un sacco di risposte e poi dopo in catar per gli ultimi test e quindi la prima gara mondiale 20 marzo non manca più tanto è un mesetto appena appena abbondante e noi del diario del web ci saremo vai bello che si inizia ciao